2S Piscine Spa a Villimpenda è un'azienda dinamica a conduzione familiare che vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore e da un anno ha ampliato l'attività con un moderno showroom di 400 metri e un magazzino di oltre 600 metri. Da 2S Piscine Spa potrete trovare prodotti chimici per piscine, piscine fuoriterra e ricambi laghetto e Intex, prodotti per l'irrigazione, articoli da giardinaggio, raccorderie in PVC, sistemi di depurazione per acqua potabile e giochi per piscine. Professionalità e cordialità contraddistinguono i servizi offerti da 2S Piscine Spa che si avvale dei migliori brand internazionali per garantire massima affidabilità e tecnologia. 2S Piscine Spa offre servizi per la costruzione di piscine interrate dalla progettazione alla finitura, assistenza e manutenzione, analisi dell'acqua, realizzazione di centri benessere chiavi in mano e fontane ornamentali. 2S Piscine Spa vi aspetta tutta la settimana anche la domenica mattina. Per maggiori informazioni visitate lo showroom in via Begozza 16 a Villimpenta o il sito www.2spiscine.it